Salve ragazzi e bentornati alla carriera allenatore Allora che oggi si fa avanti con l'Armina Bilefed Abbiamo da continuare con il mese di ottobre Stiamo continuando a volare quindi ragazzi cerchiamo di rimanere su questo brand Su questo trend scusate ragazzi Ovviamente quest'oggi tripla sfida contro Verde Brema Pausa per il nazionale, arriveremo allo scontro contro il Colonia E poi avremo la terza giornata di Champions contro il Fenerbahce Ovviamente ragazzi prima di iniziare a giocare vi invito a lasciare un mi piace Iscrivervi al canale per essere sempre aggiornati e per continuare a supportarmi Anche a commentare qualsiasi vostro dubbio, consiglio o perplessità A seguirmi sulla pagina Instagram e a sostenere il canale tramite un abbonamento e ad una donazione Detto a ciao ragazzi direi che possiamo scendere subito in campo Verde Brema contro Amina Bilefed Ovviamente migliore formazione possibile visto che dopo questa sfida c'è tutto Tutto il tempo per recuperare e per tornare in forma la panchina Quella giusta, mettiamola così Quindi tutto pronto, si scende in campo Vecchio subito Bamba che può preparare ad accelerare Bamba è passato subito il destro da parte di Bamba Che sblocca immediatamente la partita 1-0 siamo in vantaggio Continua a segnare Bamba ragazzi Che sta facendo veramente una super stagione per il momento Bamba riesce a far passare il pallone in qualche modo Perconate che si ritrova Tu per tu con il portiere e non sbaglia 2-0 arriva l'immediato gol del raddoppio Come sempre ragazzi continuiamo in questo periodo di forma allucinante Bamba che sinceramente voleva scartare anche il secondo uomo Alla fine il pallone arriva a Conate Io penso che questo sia classificabile come assist a parte tutto Ecco a Conate 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 No qui la mette clamorosamente fuori Si sembrava il suo classico gol Qua effettivamente strattonato alle spalle dal difensore Però diciamo in questi casi almeno la porta la becca Siamo ancora in avanti Bernabé A lasciargli Bernabé L'appoggio Per Conate Che stavolta la piazza Apre il piatto destro E l'enfila ancora in porta 3-0 Doppietta personale Per Conate E occhio marino 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 La sterzata L'appoggio per Conate A cercare di arraghe Si inserisce Arriva la parata da parte di Dean Anderson Volevamo chiudere questo primo tempo addirittura col quarto gol Che se continuiamo così Secondo me potrebbe arrivare anche Che è abbastanza in fretta Ci prova a Mbappé Dalla distanza Ma blocca ancora il portiere inglese 3-0 all'intervallo ragazzi Dominio assoluto Il Berdebrema Non si è visto proprio Duravella Avanza Duravella Duravella Tocco Arretrato per Conate Che va fortissimo col sinistro Che cavolo ha preso il portiere Secondo me Ha fatto un miracolo sensazionale quel portiere Perché secondo me Ho visto pochi portieri prendere un pallone così forte su questo gioco Comunque Bamba Siamo ancora in avanti E un po' Il nostro bambone Palla per Mbappé Ancora per Bernabé C'è lo spazio per Conate Che si gira alla grande Conate Stavolta non sbaglia E trova il gol del 4-0 Mamma mia ragazzi Mamma mia Arrivano anche le sostituzioni ragazzi Soli di 5 campi Dentro con 3-D E il dragone al centro campi In attacco Sonko Thomas E con le oscio Per chiudere al meglio Questa partita Calcio d'angolo Bernabé Al centro Anticipati Occio di testa Con la bamba Che non sarebbe la prima volta Che trova un gol del genere Ma stavolta va Diciamo La palla va fuori Contro il Real Madrid Se non sbaglio Se ne ho così Thomas Poi da l'appoggio Quindi Lascia lì Per Sonko Che va col destro E trova anche la gioia personale Stavolta Tiro troppo preciso Neanche Dini Anderson Poteva parare 5-0 Partecipa alla festa Anche Sonko Sonko Può avanzare Tra l'altro Dal primo gol in campionato Sonko ancora Doveva mettere il suo sigillo Comunque stavolta perde l'attimo Allarga per il dragone Che la lascia lì Per Coleosho Che trova anche lui il gol Segnano entrambi gli esterni 6-0 Ragazzi addirittura Anche Coleosho Al gol Lui sicuramente Non è al primo gol Che segna E ok ragazzi Fischio finale Vittoria Nittissima Veramente Impressionante Come riusciamo Ad imporci E riusciamo a farlo Sempre di più Sempre meglio E ok ragazzi Adesso si scende in campo Contro il Colonia Che a parte tutto È secondo in classifica Quindi diamo il giusto rispetto Tra virgolette A questa partita E proprio per questo motivo Scendono in campo Totalmente Con la prima squadra Eventualmente Sono disposto addirittura A giocare in Champions Con la seconda squadra Visto che affrontiamo Il Fenerbace Abbiamo già vinto Le prime due Quindi sono abbastanza Sicuro Che si possa comunque Poi fare qualcosa Di importante Nonostante La formazione Non titolare Comunque ragazzi Oggi però ci sono I migliori giocatori Che abbiamo attualmente In rosa La stessa squadra Che ha appena vinto Contro il Verdebrema C'è stata la pausa Per i nazionali Speriamo che Non abbia inciso Sulla forma Sulla forma Dei nostri ragazzi Conate Allarga Molto bene Bamba Bamba La sterzata Viene chiuso L'appoggio La palla La palla rimane Lì E c'è Diarrà Che doveva Semplicemente Quasi appoggiare Il pallone in porta Non ci riesce Il tiro che viene Abbastanza centrale Il portiere La mette in calcio D'angolo Ma occhio A Bamba Che stavolta Non sbaglia Trova il gol 1-0 Si sblocca la partita Colpo di testa Perfetto E effettivamente Adesso Per un giocatore Come Bernabè Ci rende molto Più pericolosi Anche dai calci D'angolo E sui calci Da fermo In generale Quindi ragazzi 1-0 Siamo in vantaggio Anche quest'oggi E No zitto Stavo per dire Una cosa Sconveniente Infatti Non la dirò Ecco ragazzi Possiamo avanzare Durabil La lascia lì Al suo fidato Compagno Karim Conatè Che non sbaglia Trova il gol Del 2-0 A segna Conatè Come sempre Durambil doveva Metterci lo zampino L'ha fatto anche In questo caso Ottimo assist Abbastanza semplice Per lui E Conatè Poi non poteva Veramente sbagliare Riguardiamo qui Tuck L'appoggio di Durambil E Conatè Con un altro Tuck Che sbatte la palla dentro E oggi ragazzi Possiamo avanzare Con Durambil Che è partito Vediamo un po' Durambil 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 Prova la sterzata L'appoggio Conatè Ancora col sinistro Stavolta Pare partire Schwabe Schweb Schwebs E anche ragazzi Finisce anche il primo tempo 2-0 All'intervallo per noi Anche questo Coloni Attualmente Secondo in classifica Non mi sembra essere Un gran key Bamba Possiamo andare Bamba Passato Bamba Bamba Il destro Da parte di Bamba Che trova il semplicissimo Kick-off 3-0 Continua a segnare Il giocatore Ex Dortmund Conatè 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 Di Arraa Niente da fare Non trova il gol Di Arraa Che ci sta provando ormai Da un paio di partite Ma Non riesce più a trovare La via Del gol Vediamo C'è ancora tempo In questa partita Vediamo Se sarà oggi La volta buona Qui brutto fallo Sumbapete Oh c'ho qui Camoroso errore Da parte del portiere Non mi succedeva Da tanto 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 tempo Ma Conatè Non ne approfitto Qua veramente Pasticci su pasticci Da parte del Coloni Conatè In avanti Durambil Durambil Può andare Durambil Vediamo se sarà lui A trovare il poker Ed è proprio così 4-0 Segna Durambil Siamo anche All'ottantacinquesimo La palla Che praticamente Non è uscita Per un bel po' di tempo Quindi non ho avuto La possibilità Di fare le sostituzioni Facciamola adesso Anche se manca Veramente poco Però comunque A prescindere Diamo un po' Di spazio Agli altri Quindi Thomas Sonko Con le Osho Come sempre Poi il quinto cambio Direi di mettere Come sempre Il dragone Per Di Arraa E ok ragazzi Fischio finale Cambio abbastanza Inconcludente Giustamente Il tempo era Veramente Misero Ancora una vittoria Altri 4 colsegnati E ancora ragazzi Dall'altra parte Del tabellino Che rimane Lo zero E va bene ragazzi Ci andiamo in campo Adesso per la partita Di Champions Contro il Fenerbahce Bernabé Vuole giocare Ma sinceramente Ragazzi Oggi ho deciso Di schierare In campo Totalmente La seconda squadra Visto che Mi fido Mi fido tranquillamente Quindi visto che C'è qualche elemento stanco Ho deciso Di cambiare Totalmente Quindi Caraccio Fra i pali Wattarami Unnitzking Mina Condri D World Il dragone Sonko Thomas E Coleosho Come ho detto ragazzi Sono molto fiducioso Che questa squadra Possa far bene In panchina Stanno praticamente Tutti bene C'è Mbappé Che è leggermente stanco Rispetto agli altri Possiamo farlo riposare Ci vogliamo portare Questo Sanders Ragazzi Tanto è un giocatore Che abbiamo già venduto Però In questo caso Può tornare utile Così Mbappé Riposa meglio Mettiamola così Coleosho L'appoggio Per Thomas Il sinistro Da parte di Thomas Che trova Il go del 1-0 Devo fare un attimo Il ruttino Ok ragazzi 1-0 Siamo in vantaggio Segna Thomas Grandissimo Sinistro Fenerbahce Che era partito Molto aggressivo Fanno tante scivolate Prestano tanto Ti stanno addosso Difficilmente si riesce a passare Ma in questo caso Thomas bravissimo A divincolarsi E col mancino Fa girare questo pallone Che batte subito Il riportiere 1-0 Siamo in vantaggio Anche quest'oggi Thomas Può avanzare Thomas 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 Prova ad andare ancora Col sinistro Ragazzi Se parte così Thomas Sarà una partita Molto divertente Secondo me Perché Quando è in questo stato Riesce veramente a fare i buchi per terra Qua salta male Comunque Attenzione Whirl Whirl che può provare il destro Da fuoriare Respinto Su un cuo di testa Ha sbagliato tutto E occhio Con le oscio Con le oscio Con le oscio Con il destro Ancora con calma Ragazzi ho capito come far male a questa squadra Basta che semplicemente prendi un giocatore tecnico Qualche dribbling E devo dire che Non riescono a contenerti Perché si sono bravi A partire sull'anticipo Ma poi Sulle chiusure in sé Vedete in questo caso Sono Abbastanza Debolucci 2-0 Segna anche L'esterno italiano Ok ragazzi Finisce anche il primo tempo 2-0 all'intervallo Diciamo che Per il momento Devo dire che ho fatto bene A schierare in campo La seconda squadra Alla fine l'ho fatto senza Pensieri negativi Tra virgolette Senza Senza dire Ah Sto rischiando troppo Perché effettivamente Ragazzi Mi Si stanno comportando benissimo Ero sicuro che L'avrebbero fatto Acchio Thomas Thomas Può andare Thomas Thomas in area Il destro Da parte di Thomas Di potenza E cattive Arriva la parata Da parte di Müller Comunque ragazzi Arrivano i 5 cambi Quando mancano 20 minuti Il martemio della partita Bernabé di Arra A centrocampo Con Bernabé Che diciamo Prenderà il posto Di Mbappé In un certo senso Poi l'attacco dentro Come sempre Bamba Con te Durambil Ragazzi Qua innanzitutto Bisogna fare attenzione A questo calcio d'angolo Da parte del Fenerbahce Cerchiamo di mantenere La porta inviolata Il più possibile Qua c'è addirittura Lorenzo Lucca Che però Fortunatamente Sbaglia tutto Ragazzi Durambil Appena messi in campo Può girarsi Durambil In velocità Durambil Prende in pieno Il difensore C'è ancora di Arra L'appoggio per Durambil A cercare Bernabé Che è col sinistro Non sbaglia E trova il gol Del 3 al 0 Ragazzi C'è stato un rosso Per il Fenerbahce Me lo sono perso Sarà stato tipo Un fallo A centrocampo E Io non me ne sono accolto Perché forse Non mi aspettavo Che dava il rosso E quindi ho Schippato subito Tra virgolette Comunque ragazzi Evidentemente Il Fenerbahce Ha indici uomini Quindi cerchiamo Di approfittarne Per fare più gol Possibili Anche se Manca veramente poco Ma Vediamo se adesso Conatè Riuscirà ad avanzare Vediamo un po' Conatè È passato Si ferma L'appoggio Ancora Per Bernabé Che sbaglia Sulla respinta Dopo il palo C'è Bamba Che non riesce però A mettere Il pallone in porta Ma c'è ancora Conatè Fallo Ricore Che cos'è Non lo so Fallo per il Fenerbahce E occhio ragazzi Che a tempo scaduto Può avanzare Il Fenerbahce E dobbiamo subire Il primo gol Stagionale Peccato ragazzi A tempo abbondantemente Scaduto Assurdo Che abbia fatto continuare Perché a centrocampo Già la partita Era finita 3-1 Segna Gimanski E finisce anche qua La partita Da tanto Tanto fastidio Aver subito Questo gol Sembrava che Kekchen fosse Sul pallone Però ragazzi Alla fine Non fa nulla Non vi preoccupate L'importante Era vincere Vince anche Il Real Madrid 3-0 Sulle cappe di Stoccolma Ragazzi Come era prevedibile I primi due posti Saranno Per noi E per i Galacticos Comunque ragazzi A parte tutto Ricordiamoci Che abbiamo giocato Questa partita Con la seconda squadra Quindi C'è sicuramente Da essere soddisfatti Torniamo immediatamente Con la prima Per affrontare La partita Di campionato Ma Sono andato avanti Un po' di giorni Perché vedo Conatè Un po' Stanco Sì Perché effettivamente L'ho fatto scendere In campo prima Quindi È passato poco tempo Comunque ragazzi Friburgo Poi partire di Coppa Con la Nover E l'Union Berlino E adesso inizia Un ciclo abbastanza serrato Di partita E vabbè ragazzi Direi che possiamo Fermarci qua per oggi Ma come sempre Diamo Prima un piccolo Sguardo Alle classifiche In campionato Si continua a volare 8 vittorie su 8 24 punti E a meno in campionato Riusciamo a non subire Ancora gol In Champions invece è arrivato Questo fastidiosissimo gol Da parte del Fenerbahce Che però comunque Non è assolutamente un problema 9 punti in classifica Per noi Come detto La situazione è abbastanza particolare Il Fenerbahce ormai Praticamente Alle strette Perché La prossima partita È con noi Ancora con noi E sono proprio Costretti a fare punti Per Provare a mantenere viva A meno la speranza Terzo posto E quindi andare in Europa League E quindi ragazzi Dai direi che per oggi Possiamo salutarci qua Come sempre Vi invito a lasciare un mi piace Iscrivervi al canale A seguirmi sulla pagina Instagram A sostenere il canale Tramito un abbonamento E una donazione Noi ci vediamo Alla prossima E ciao a tutti Ciao a tutti